Allora questo è l'ingresso che abbiamo riaperto su Rio Santo Ma sulla facciata ottocentesca che ci permette di entrare in maniera autonoma all'interno di quella che è una parte del convento che era riservato ai frati e che comunque è una parte di archivio che fino adesso era rimasta ancora molto chiusa. Qui siamo nelle ex cucine, questa è una sala che sarà dedicata a delle mostre, abbiamo cercato di conservare tutto quello che era possibile conservare, quindi proprio un po' la memoria storica, quindi vedete gli intonaci con il nerofumo ancora delle ex cucine, vedete gli elementi lapidei e queste strutture murarie che è un consolidamento del 1865.